ciao a tutti amici oggi triste giorno varie vicissitudini gli ultimi video si era visto un po che ci sono stati anche dei commenti un po brutti quindi ho deciso di chiudere il canale lo so che adesso voi direte siamo sotto il primo di aprile sarà il classico scherzo bravo e invece no invece no ho deciso di chiudere il canale quindi praticamente avendo questo problema questa è la motivazione principale commenti brutti quindi chiudo il canale ecco qua un tappo di sughero adesso lo chiudiamo adesso dovrebbe essere meglio col canale chiuso non dovremmo avere più questi spiacevoli brutte figure nei video come il video di mircogex america mentre tagliavo il prato che è partito un scorreggione e va bene adesso perfetto ci vediamo la prossima volta per un altro fantasticissimo video ciao vai bellissimo guardate guardate che riesco anche a muovermi senza problemi Ah, 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 ah ... Schifto!